Musica Hey! Bella ragazzi, bella sul mio canale, qua i Liox e oggi siamo qua in un nuovo video della Vanilla Siamo qua ritornati ragazzi nella Vanilla dove siamo già nel 48esimo episodio se non sbaglio E veramente, stiamo andando veramente avanti, abbiamo veramente una Vanilla veramente grande Che pian pianino, ogni episodio, la stiamo sempre di più espandendo perché infatti ragazzi in questo episodio Devo fare un'altra costruzione che sarà una costruzione veramente molto molto grande Infatti non so se riuscirò a finirla in questo video, però noi ci proviamo, noi ci proviamo Prima di iniziare ragazzi vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e iscrivervi Sia per supportare questa serie come anche le altre serie come ad esempio la Pixelmon o la Vanilla di Youtube E ovviamente supportare anche il canale Come possiamo vedere la sua torre c'è sempre il nostro solito renderman e quindi lo salutiamo E niente, allora intanto volevo anche ricordarvi prima di iniziare Che sotto casa mia ovviamente come sempre abbiamo la nostra stanza di iscritti Quindi se voi commentate sotto questo video e vi scrivete ovviamente Vedete poi giunti dentro questa stanza qua che ormai ragazzi devemmo anche più upgradearla Perché ormai è piena quindi probabilmente le prossime due persone che commenteranno Quando ce ne sarà un'altra bisognerà fare appunto un'altra stanza qua sotto Con magari la sabbia delle anime per andare giù e la netherrack per andare su Cioè in realtà viceversa però va bene E piccola parentesi anche perché nello scorso episodio ragazzi abbiamo come potete vedere Abbiamo upgradeato la nostra armatura con le rune che abbiamo trovato nello stronghold Quando siamo andati a sconfiggere l'ender dragon e quindi bene così Inoltre ragazzi come possiamo vedere in giro per il mondo stanno sempre piacendo i ciliegi E danno veramente un buon tocco Allora ragazzi come ho detto dal titolo oggi andiamo a costruire un drago Un drago ragazzi che sarà diciamo quello che sorveglierà il nostro uovo di drago Quello che abbiamo ottenuto appunto due episodi fa Qua c'è sempre la mucca libera non importa Innanzitutto vi voglio far vedere una cosa perché l'ho notato adesso anch'io E praticamente qua ragazzi c'è la malora Cioè guardate quanti cavoli villager ci sono Veramente assurdo Quattro qua ce ne sono addirittura Va bene ragazzi non bisogna tirarli vedi qui Ne stanno nascendo troppi Ne stanno nascendo troppi Inoltre ragazzi come potete vedere Qua ho finito suonato avanti come a customizzare il lago Mentre ragazzi come potete vedere ho iniziato a customizzare là Perché voglio fare esattamente là sopra il drago Con sotto lì voglio fare tipo una sorta di catena Con una gabbia con dentro il nostro uovo di drago Che poi sarà l'ultima cosa che andremo a mettere Quindi ragazzi io direi di non perderci in chiacca E di iniziare subito a costruire questa costruzione Perché veramente ci richiederà tanto tempo E ovviamente anche tanti blocchi I blocchi ragazzi li ho preparati Ho formato veramente tanto per prepararli E' bene così Ok allora questa qua ragazzi c'è la prima cassa Di blocchi che andremo a utilizzare per il drago Veramente qualcosa di devastante Mentre qua ragazzi c'è la cassa che andremo a utilizzare Per fare la gabbia La gabbia che ragazzi Infatti ho 8 mole che la volevo sommare a queste La gabbia che la andremo a fare E' quella sotto la montagna Tipo una sorta di gabbia Che proteggerà Avrà il compito di proteggere il nostro drago Allora allora Qua ragazzi ci saranno delle zampe Del nostro drago Quindi tipo Saranno sia qua Che Eh qua è un problema Vabbè la faremo anche qua Non importa Magari possiamo fare una qua E una qua sopra Ci sarà anche questo qua Tipo per fare le unghie della zampa Adesso vediamo un po' Allora io direi di fare Una roba di questo tipo qua Quindi Partire facendo così Boh vediamo un po' ragazzi Sto un attimo Facendo un po' di Di prove Facendo un po' di prove Ok Magari tipo qua facciamo Un'unghia così Qua un'altra E qua un'altra E quindi dovrebbe andare su Poi utilizziamo anche La deep state Però anche se sapete Che la deep state Io la andrei a utilizzare Allora facciamo un attimo Una crafting table Perché Questa Ci deve stare Allora Questa qua direi che potrebbe essere Una zampa Del nostro drago E Con magari Lo potremmo Ci potremmo anche utilizzare Un contorno verde Tipo il contorno verde Del nostro drago Lo potremmo fare Al centro della zampa No Ok Quindi questa qua È la zampa Eh ragazzi Verrà enorme Secondo me Se facciamo così Però vabbè Non importa Ci proviamo Allora La deep state Magari che la possiamo mettere Tipo un po' qua Un po' qua E poi è tutto intorno Ragazzi Ci dobbiamo mettere Tutto il Il nero Facciamo tipo un po' così Purtroppo ragazzi Non si vede niente Perché con la calcio struzza nera Veramente si fa fatica a vedere Possiamo fare un po' Ma Così cade però Possiamo fare un po' Ecco vedete Non possiamo mettere La calcio struzza nera così Va bene però E qua sopra invece ragazzi Si Così Vai per forza così Poi facciamo tipo Magari che qua Si allarga anche un pochino Utilizziamo anche un po' di Questo invece Non è lana Voglio Ok polvere Perfetto E magari tipo facciamo che qua Inizia ad allargarsi Tipo Dai direi che come Come inizio di zampa Ci può stare Adesso ragazzi Faccio l'altra zampa Perché così la faccio Che si In modo che si colleghi Cioè Tipo la faccio qua L'altra zampa No E poi dopo Inizio anche a fare il collo Per vedere un po' come Un possibile Anche iniziare a fare Una possibile testa Quindi magari ci vediamo dopo Ok ragazzi Sono andato avanti Quella costruzione E mi sono andato Arampicato su questo albero Per vedere Come sta venendo E sta venendo esattamente Così Cioè guardate che figata Che sta venendo fuori Ci sta venendo veramente Un sacco ragazzi Però Sta venendo fuori Veramente una figata Sto cercando di farlo Anche il più dettagliato possibile E Si Secondo me sta venendo Veramente Veramente molto bello E Devo pensare adesso Quel pezzettino là Come migliorarlo Perché così è un po' scar Adesso lo migliorerò E Niente ragazzi Probabilmente Non riuscirò a finirlo In un giorno Adesso Adesso vado avanti Vi saprò dire Comunque sta venendo molto bello Adesso ragazzi Il problema È ovviamente Fare il corpo Con la coda Che penso finirà Sopra il magazzino E anche fare le ali Ragazzi Questo è veramente Il punto è fondamentale Adesso ragazzi Vado avanti E poi vi faccio sapere Ovviamente ragazzi Non sto a farvi vedere Che piazzo blocco per blocco Perché secondo me Non viene tanto Cioè non è bello Farvi vedere Che piazzo blocco per blocco Però magari vi farò qualche clip Dove costruisco Ve la faccio vedere Quindi magari adesso Ci vediamo poi Lentre sto proseguendo Bene ragazzi Sono andato avanti Nella costruzione Ho preferito fare senza Cioè le cose di fare Senza Senza registrare Perché se no Nel blocco dopo blocco Secondo me viene fuori Un video abbastanza noioso E quindi ragazzi Guardate a che punto Sono arrivato Ho fatto ragazzi Le due ali Del drago E ci stanno molto bene Secondo me L'ho fatta in questo modo qua Vedete quanti dettagli ho messo Veramente sono sfinito Perché a mettere così Tanti dettagli Ce ne vuole ragazzi Ce ne vuole veramente tanto Però sta venendo fuori Una cosa molto molto bella Guardate qualche roba Ecco Quelle due cose lì L'ho messo lì E non lì Ho provato a variare un pochino Adesso poi vediamo Ragazzi a me piace molto Come è venuto così Perché proprio Dall'idea del drago Che con questa posizione qua Come lo voglio fare io E quindi sta venendo fuori Sta venendo fuori Esattamente come L'ho pensato E quindi bene così Una volta finito Ragazzi che bisogna fare La parte diciamo finale Con la coda E Cioè La parte finale con la coda Andremo a fare Praticamente la Tipo la cella Che sarà appesa Davanti questa montagnetta qua Dove appunto Ci sarà L'uovo di drago Ciao lavoraccio ragazzi Adesso io mi prendo Una pausa Quindi smetto un attimo Di costruire Poi riprenderò Non so Quando verrà fuori Questo video qua Perché veramente Ce ne vuoi ragazzi Non tanto per Editarlo Cos Ma veramente Per fare questa posizione Ce ne vuole veramente tanto Ragazzi Perché è veramente Una posizione Veramente enorme La più grande di tutta la vanilla Ragazzi Quindi mi sto impegnando Tantissimo per farla E E sì E veramente Ci vorranno anche tanti blocchi Infatti I blocchi nella cassa Stanno per finire Infatti Mi sa che mi tocca Farmarli ancora Quindi Ci vediamo magari Un po' più avanti Quindi ciao ragazzi Magari ci vediamo anche Quando sto Quando sto costruendo Diciamo la parte Sotto Quella lì Per la fine del corpo Comunque dai Siamo a buon punto Ok ragazzi È passato un po' di tempo E Ci ritroviamo in questa zona qua Ovvero Dovevamo fare La parte Finale del drago Dove appunto Ci saranno appunto Le due zampe E Posteriori E inoltre E Sì No E oltre la coda Vi faccio vedere qua Come è venuto Da sotto Perché veramente Sembrava Di devastante E Mi piace veramente tanto Come è venuto Attenzione qua Che non cadiamo Ok Con l'ala questa qua E anche L'ala questa qua Ora Praticamente qua Dobbiamo metterci Un po' di blocchi Quindi magari Li mettiamo Subito Ora Quindi Devo un po' alternare Con Ok Dobbiamo metterci un po' di questi blocchi qua Praticamente Perché ovviamente Deve essere un po' più grande Come pancia Ecco diciamo Quindi tanti di questi blocchi qua Poi ovviamente Sempre alternare Con questi Ecco qua Quindi vi dicevo Un po' alternare Eccoci qua Perché dobbiamo un po' chiudere Questo punto Qua Ok Quindi chiediamo qua Vedete ragazzi Che è molto difficile Quindi per questo che Vi dicevo appunto Che ci avrei messo Abbastanza tempo Appunto per questo motivo qua Ecco Poi contando anche Gli imprevisti Come quello lì Come avete visto C'era Però ragazzi Questo è altro Per avere diciamo Una delle costruzioni Se non quella più Più importante Ecco Del mondo Ecco perché questa qua Comunque è anche la più importante Direi Ok E chiudiamo un po' Qua Va bene Poi ovviamente I blocchi sono un po' Messi a casa Cioè I blocchi negli Sono messi a caso Tanto per riempire Diciamo Il corpo del drago Mentre per quanto riguarda I blocchi verdi Seguono appunto Questo qua Come se fosse una cresta Questa qua La parte iniziale Dell'ala E ora ragazzi Ci manca appunto Questo Ovvero La parte questa Allora Per iniziare La parte questa Ragazzi Iniziare intanzitutto Con un po' Di Appunto Fare il corpo E via via Proseguire così Quindi sempre fare così Questa lana nera Quindi possiamo metterla Sempre magari Sempre di uno più basso Adesso poi comunque ragazzi Questo qua dopo lo rialzo La parte verde Quindi non preoccupatevi Che poi la rialzo Ok E poi fare così E proseguire così Il corpo ragazzi Con le zampe Una di lì E una di lì Il corpo ragazzi Che sarà un po' Cioè con la parte finale Un po' arrotondato Perché non deve essere dritto Questo appunto La mia idea Cioè non la voglio fare Una cosa dritta Vediamo un po' Ma Sì sono un po' sfinito ragazzi Questa costruzione Mi sta prendendo un po' Di energie vitali Proprio perché Come potete vedere È qualcosa di Gigantesco Non è già A me che mi metto A fare queste costruzioni Però per la vanilla ragazzi Questo è altro Perché come sempre Io nella vanilla ragazzi Cerco sempre di impegnarmi Tantissimo a fare le costruzioni E quindi Ovviamente Questo è Allora Bisogna mettere un po' Sempre i blocchi così Qua ragazzi Dopo alzo la parte verde Perché ovviamente Deve essere una cresta Ok Adesso poi ragazzi Devo anche vedere un po' Qua come fare Se fare Qua mettiamo anche un po' Di questi blocchi Qua tanto per un attimo Dare un po' Di contrasto Benissimo Cioè guardate quanto Siamo in alto ragazzi Mamma mia Veramente in alto Veramente veramente in alto Veramente molto bella la vanilla Come si vede qua Sono veramente contento Del lavoro che sto facendo Ragazzi Sono veramente contento Che state sopportando sempre Questo Questo mondo Questo vanilla Quindi continuate così Va bene ragazzi Io direi che adesso Continuo a fare off camera Questo punto qua Perché devo anche Studiamolo bene E quindi magari Ci vediamo una volta Ci vediamo una volta ragazzi Che siamo al punto Delle zampe ragazzi Perché così ci vediamo Quando facciamo appunto Le zampe E la coda Ecco quindi Adesso vediamo Poi intanto Questo pezzo qua di corpo Lo faccio off camera Quindi magari ci vediamo dopo Ok ragazzi È passato tanto tempo E sono riuscito a finire Alla fine Ho preferito andare avanti Senza registrare Perché ragazzi Perché io quando costruisco Ragazzi Non riesco a parlare Cioè se parlo Parlo male Parlo lentamente E quindi Ho preferito andare avanti Nella costruzione E infatti Ho finito il drago Ragazzi È venuto veramente Una figata Guardate qua Ho fatto le due zampe Qua ad appoggio Questa è un po' più lunga Perché ovviamente C'è la parte sotto E poi ragazzi Qua ho fatto un po' Diciamo la parte finale Dietro Con anche sta coda Veramente molto lunga Tra l'altro ragazzi Da qua si può anche salire E appunto Andare fino in cima E vi faccio vedere Come è venuta la costruzione Da lontano Anzi prima vi faccio vedere Come è venuta da lontano Anzi poi ragazzi Poi tra l'altro O off camera O prima di chiudere il video Qua customizzo tutto Faccio tutto verde E verde e nero Direi di prendere anche Le cose che ci servono Ovvero le lanterne Perché ci servono anche le lanterne Ragazzi Qui fa una bella cosa Molto molto figa Allora riesco a Cadere qua senza Morire Ok All'altro ragazzi Come potete vedere Sono pigro E in realtà Non ho avuto tempo Per organizzare Questa costruzione Quindi non ho ancora Finito di mettere Le robe nel magazzino Vabbè scusatemi Prima o poi lo farò Giuro Già da qua È veramente molto molto bello Da vedere Però se noi lo andiamo a vedere Cioè da qua veramente ragazzi Spettacolo Comunque veramente spettacolo Però se noi lo andiamo a vedere Da un po' più avanti Che si vede anche la coda Tipo da qua sopra Si dovrebbe vedere Veramente una figata Adesso andiamo un attimo qua E esatto ragazzi Guardate che bello Veramente si vede anche la coda È veramente uno spettacolo Ragazzi Veramente Tanta Tanta E roba Secondo me ragazzi Questa qua è una delle costruzioni Più belle Che io abbia mai fatto In vita mia su minecraft Oltre che nella valina ragazzi È una delle costruzioni più belle Fatemi sapere voi nei commenti E ragazzi La costruzione diventerà ancora più bella Quando andremo a fare appunto Questa cosa qua Ovvero Fare appunto La La gabbia Con dentro l'uovo Di drago Che sarà l'ultima cosa Che andremo poi a mettere Allora Intanto iniziamo ad andare qua sotto Andiamo esattamente qua sotto Proprio Esattamente qua Ok Tanto Andiamo ancora un po' più in qua E con il blocco lì È diventato Di calciostruzzo È diventato calciostruzzo normale Allora Proviamo a fare una cosa di questo tipo Quindi Fare così Ma che problema c'è No ragazzi Va messa Allora Aspettate Quindi questa va messa così No E quindi questa qua va messa così Eh ma no Invece no Va messa così Ok Perfetto Quindi rompiamo questa Dammela Perfetto Mela data Bene E farei la stessa cosa Anche da questa parte qua Praticamente Due catene che scendono Quindi Facciamo anche la stessa cosa di qua Possiamo fare Esattamente Che inizi Da qua al tetto Ok Quindi se inizia da qua Facciamo Così Sì Poi Da qua Praticamente Noi lo tiriamo Qua Va bene Ok Poi da qua Adesso ne dobbiamo andare su Praticamente Quindi 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 mole Facciamo così Praticamente Ok Siamo arrivati Su Bene E facciamo Così Mamma mia ragazzi Sono un parkourista Ok Dai così va bene Adesso poi ragazzi Bisogna fare la casa Tutti intorno Quindi adesso Visto che è notte Mamma mia Stavo per cadere Visto che è notte Vado a dormire Perché così Appunto Si fa giorno E poi Continuiamo domani Perché se no qua Sponano 300.000 mob Quindi dopo Non va bene Quindi ci vediamo domani Ok ragazzi È giorno E possiamo continuare La nostra costruzione Allora Stavo pensando Ragazzi Questi cosa Non hanno i lati Della nostra gabbia Non sarà una gabbia Tanto grande Però Ho intenzione di fare Le uniche gabbie Che sono molto Molto dettagliate Purtroppo qua Mi devo alzare E fare così Perché Vabbè Facciamo così E' buona lì Ok Spacchiamo qua Spacchiamo qua E facciamoci un po' male Va bene Spacchiamoci le gambine Ok Ora lì è di alzarci Anche di qua Quindi Perché Vedete che Proprio farle così Sembra proprio delle catene Che scendono Ed è veramente Un effetto molto molto bello Cioè guardate ragazzi Che effetto che danno Cioè Bellissimo Questo effetto qua È veramente bello Adesso poi ragazzi Adesso facciamo la gabbia E poi off camera Customizza un po' tutto Dunque qua Possiamo rompere Ehm Fatemi un attimo pensare Ragazzi faccio un attimo Di prove off camera E poi quando trovo la quadra Vi faccio sapere Perché adesso devo Un attimo vedere un po' qua Come fare Quindi faccio un attimo di prove off camera E poi ci vediamo Ok ragazzi Ho trovato la quadra E come potete vedere È venuto così Ehm Alla fine Nell'angolo Ragazzi ho messo la scala E poi ragazzi Ho fatto in modo così Con le sbarre lì laterali In modo che venisse giù Ehm In questa maniera qua Poi sotto ragazzi Ho messo Ecco se non si può Piovere Sotto ho messo un po' Le lanterne E l'ho messa anche Come potete vedere Un po' sui muri Adesso vi faccio vedere Aspettate Ecco L'ho messa anche un po' La sulla parete Che poi adesso Ragazzi andrò A customizzare Allora Ehm Qua c'è solo da fare Due cose Allora Anzitutto mettere Le sbarre esattamente In Cioè le catene In realtà In questo modo qua Ecco qua ragazzi Perfetto 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 Ora ragazzi Manca la parte Più in importante Ovvero quella Dell'uovo di drago L'uovo di drago Che purtroppo ragazzi Non è centrato Quindi Ok Guardate qua che bella ragazzi La nostra gabbia Quella proprio Sospesa così Che proprio Dà l'impressione appunto Di Come se Il drago Stia procedendo appunto Questo Tesoro Ora ragazzi Ci mancano due cose Ovvero La prima Andrò a prendere i pulsanti Perché li voglio mettere lì Quindi magari passiamo Da sotto il drago Così Lo faccio anche vedere meglio Che tanto vabbè Comunque l'avete già visto E poi ragazzi Ci restano a fare Due cose Cioè Sì Mettere sia i pulsanti Quindi adesso Andrò subito a prendere Nel magazzino E poi ragazzi Ci restano a mettere L'uovo Poi prima di chiudere Ragazzi Off camera Faccio un pochino Di dettagli Prendo anche l'uovo Ci vediamo una volta che va Posizionato No allora sapete ragazzi Perché mi da troppo fastidio Sta cosa Vabbè che tanto dopo però Sarebbe comunque No ragazzi Facciamo così Facciamo La La sposto di uno in più La faccio di uno più larga Perché mi da troppo fastidio La cosa Quindi la faccio Posiziono l'uovo E Già che ci sono E Faccio Customizzo un po' di fianco Così ci vediamo più alla fine Quando abbiamo finito Tutto 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 Quindi adesso Non modifico sta cosa qua Perché mi da troppo fastidio Ci vediamo dopo Quindi ciao Ok ragazzi Ho finito la costruzione Ed è venuta veramente Una figata Ragazzi Mi raccomando Lasciate like Perché questa qua È la costruzione più grande Mai realizzata prima Sia su questa vanilla Che su questo canale Veramente ragazzi È qualcosa di giga enorme E prima di farla vedere Ragazzi Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi Al mio video Ve la farò vedere 3 2 1 Eccola qua ragazzi Costruzione completata Mamma mia ragazzi Ho anche customizzato Tutto di fianco Ed è venuta veramente Una figata Cioè guardate qua ragazzi Il custom Che ho fatto di fianco Stile come appunto Questo qua Se ne puoi rifare Tutto il laghetto Con questo stile qua E guardate ragazzi È anche il drago Veramente una figata Il drago che protegge Appunto lì Che adesso ragazzi Andiamo a metterci Appunto L'uovo di drago Come chicca ragazzi Sì Andiamo appunto A mettere il nostro Uovo di drago Che abbiamo ottenuto Sconfiggendo il drago Dell'ende Nei episodi scorsi Subito a mettere L'uovo Per concludere in bellezza Questo video Perché veramente Ragazzi Non avete idea Di quanto tempo Ci abbiamo messo Io sia per registrare Cioè nel senso Per costruire il drago Perché già quello lì Vuol dire Veramente Averci messo Veramente tanto E poi ovviamente Anche per raccogliere materiali Veramente Tutto l'insieme Di tutti questi Praticamente Tutto questo tempo qua È veramente Veramente tanto Poi ragazzi Metteteci anche In conto Che tutti questi tagli Ragazzi che vedrete Che avete visto Durante il video È perché appunto Se no dopo È troppo noioso E poi è anche Luto a tagliare Anche perché Tra una chi lì per l'altra È passato veramente Tanto tempo Ok Direi ragazzi Che è gentil momento Di mettere Il nostro uovo Di drago Allora Andiamo Qua ragazzi Non so se riesco Ad atterrare Lì sopra Ci provo E niente ragazzi Non ce l'ho fatta Vabbè Fa niente Dai Ragazzi 9 ore dipende Mille litre Sono nei prossimi episodi Andiamo Assolutissimamente Ragazzi A cercare Le litre Perché Serve 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 Allora Facciamo Così Eccolo qua Ho fatto lo spazio 3 2 1 Eccolo qua ragazzi La gabbia Dell'uovo di drago Veramente Fantastico 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 Questa costruzione ragazzi Veramente la più bella Mai realizzata Prima in vita mia Fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate Se vi piace Questa costruzione Perché secondo me È venuta veramente Qualcosa di fantastico E se avete Dei consigli Suggerimenti Da darmi Magari per migliorarla Secondo voi Se avete delle migliorie Fatemi un attimo sapere Nei commenti Questo punto qua ragazzi Poi andiamo a tappare Perché Non mi piace Zero proprio Va bene ragazzi Io Con Con questo video qua Vi saluto E questo qua ragazzi Come ho detto In un post della community È stato il motivo principale Per cui Appunto Non sono usciti Video in questo periodo qua Perché appunto Tutto Diciamo Tutto il tempo Che avevo a disposizione E anche ovviamente Le mie energie Sono andate tutte Per costruire Questa costruzione Che è veramente Qualcosa di gigantesca Qualcosa di mai fatto Prima da me ovviamente Quindi niente ragazzi Vi chiedo un semplice supporto Lasciando like E iscrivendovi Al canale E ovviamente Supportare le serie Noi ci vediamo In un prossimo video Da me e questo Drago gigante Verde E tutto Ci vediamo In un prossimo video Ragazzi ovviamente Io sto continuando a ammirarlo Perché veramente Ragazzi è venuto Troppo Troppo bene È venuto Noi ci vediamo In un prossimo video Daliux è tutto Ciao